Michele, un uomo di 40 anni, ha un problema veramente grande che ogni sera, sempre e continuamente alla stessa ora riceve una telefonata dove c'è qualcuno che lo prende in giro la sera successiva, sembra il solito l'aria, riceve sempre la solita telefonata drink, pronto chi parla? e chiude Michele non si può sopportare a una cosa del genere e chiede naturalmente consiglio ad un amico l'amico consiglia a Michele, appena tu rispondi e c'è questo che ti fa queste pernacche tu non gli dai il tempo di fare le pernacche, gli devi dire una botta di parolacce proprio le parolacce più schifose che ci sono a questo mondo hai capito? Va bene la sera successiva, al solito orario, Michele riceve sempre la solita telefonata drink Michele alza la cornetta del telefono eh grandissimo figlio di buona donna, fai schifo se ti prendo ti faccio veramente un sedere grandissimo cornotaccio figlio di una buona donna pronto? ma perché mi parla così? ma perché? chi parla? buona donna oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah